Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Io sono Tom de The Gamers e ben ritornati in un video di Stix The Master of Shadows. Allora eravamo rimasti che siamo arrivati in questo nascondiglio, ovvero possiamo dire la base, dove noi ci fermiamo a riprenderci i nostri armamenti, ovvero coltelli, vita e ambra. E poi possiamo ripetere delle missioni e anche aggiungere altri punti di abilità e sbloccare altre abilità. Noi nello scorso episodio noi abbiamo sbloccato, se non ricordo male, questo abbiamo sbloccato, che possiamo portare più fiale di vita, quindi ora ne abbiamo tre. Possiamo uccidere da dietro nel riparo e basta, credo sì, basta, questi due. Potevo usare meno punti per sblocare magari il clone che lo afferra per distrarre l'avversario o l'atterraggio morbido che facciamo meno rumore, però io volevo provare a mettere questa abilità che ti consente di uccidere un nemico da dietro un riparo. Per esempio io sono messo qua, arrivo un nemico, lo ammazzo. Ed è direi abbastanza utile per lo stealth siccome magari ci troviamo a volte in situazioni non molto gradevoli. E quindi potrebbe esserci utile. Allora, nel scorso episodio, ripirogando, abbiamo, ci eravamo fermati in un punto di stallo, più o meno un checkpoint possiamo chiamarlo, dove ci siamo ripresi dall'ambra e però dovevamo uscire da quel punto. Sono morto più o meno due volte là all'inizio perché dovevo capire come riuscire a non farmi vedere da invisibile. Per fortuna sono uscito comunque a cavarmela, anche se ho dovuto ammazzarne un po' perché mi avevano individuato. Però almeno ci siamo riusciti e siamo arrivati a questo nascondiglio, neanche con troppa difficoltà. E ora siamo qua per andare a fare un'altra missione. E noi riusciamo da nascondiglio, sì da nascondiglio, per iniziare questa missione. I servi e i bibliotecari possono essere uccisi anche quando sono allertati. È vero perché loro non possono attaccarti, però ti fanno scoprire, quindi è una cosa abbastanza svantaggiosa. È meglio non farci scoprire neanche da loro. Avrete un ospite a sorpresa e avrete anche una bella sorpresina, mi sa. Ok, dobbiamo andare all'ambasciata. Allora, ragazzi, io qua non sono mai andato. Vi dico questo. Quindi qua scopriamo tutto insieme. Cosa succederà? Devo andare là sopra, vorrei vedere un attimo cosa c'è. Vabbè, nascondigli. Là c'è degli aggrappi. Sono due nemici e nascondigli. Vabbè. Ok, beh, non mi sembra troppo difficile ad ammazzare questo, è da solo. Quindi, no. Ah, ok, lui va di qua. Ok, quindi... No, fa il giro tondo. Ok, fa il giro tondo della cassa. Quindi ora se ne va di qua. E si appoggia là? No, mi sembra di novelo. Fa il giro di qua. Ebbene, possiamo buttarlo di sotto. Ciao. Addio. Uno è andato. Ora possiamo proseguire di qua, però quello ci vede. Ah, però va di là. Quindi potremmo anche non farci scoprire. Perché questo dorme. Ah, no, però lui... Però ci vede se facciamo così. Piano, ok. Lui ci vede se andiamo... Cioè, perché lui adesso... Vabbè, nella frazione di secondo, o di pochi secondi, che lui si gira per andare di là, io potrei correre e andare là sopra. Infatti. Ed è proprio quello che faccio. Benissimo. Ok. Ora sono qua sopra, c'è lui... Aspetta, non voglio... Ok. Ok, lui va qua. Però se lo spingo faccio... Allertare quelli che sono sotto. E non voglio. Mica poteva passarla. Eh, vabbè, ma mi vedono, quindi no. Beh, ok. Però aspetta, se lui viene di qua, posso ucciderlo da una sporgente? Mi vede quello? Ah, quello posso ucciderlo facilmente. No, aspetta, adesso mi vede lui, non lo voglio. Ok, vattene. Lui ha girato di là. Non so cosa faccio adesso. No, infatti. Vediamo se posso ucciderlo. Eh no, perché se ne va là e guarda il nulla e contempla. No, tu non devi andare là. Non lo voglio spingere perché sennò mi faccio scoprire. Ok, se ne va. Posso andamene qua a ucciderlo? Perfetto. Bene, 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 bene. Per ora ce la stiamo cavando bene. Non voglio dire niente, però. Per ora ce la stiamo cavando bene. Ok, eh, io voglio nascondere dove? Eh, eh, non posso? Vabbè, lui non arriva qua, quindi posso metterlo qua. Un attimo. Scusate di nuovo che abbaia il cane. Ah, beh, ormai è di prassi, cioè, in ogni video abbaia, quindi al posto. Non so neanche che ve lo dico ormai. Eh, e dove vado io adesso? Questa porta non posso aprirla. Eh, infatti. Eh. E qua non faccio niente. Oh, qua c'è una moneta, aspetta. Raccogliamola. Io devo andare di là. Perché là c'è lui, ma va bene, lo uccido, non mi serve. Io devo andare là sopra e poter passare da là. Ok, quello mi vede. Te ne vai? Non ce ne va. Rimane là. No. Non ci credo. Non si è fatto scoprire. Eh, sì, beh, non credo proprio che possa uccidere così tante persone. Io devo andare qua. È l'unico passaggio a questo, ma se mi faccio scoprire... Non è troppo a lungo da fare questo salto. Ho sbagliato prima perché non l'ho saltato. Perfetto. Ok. Sì, però ora lui forse mi vede se salto su quella di legno. Vero? Eh no, aspettate un attimo, però. Ci vado qua o come ci vado là sopra? Dove andare là e poi? Basta. Cioè, no, devo passare da qua? Mm. Eh, non c'è nulla. Eh. Là c'è una moneta sotto. Ma io non posso ucciderli sti qua. Cioè, no, in realtà sì perché quei due lavorano. Quindi potrei ammazzare questi due col coltello. Perché uno è girato. Io lo faccio. Ok, tutti e due andati. Eh, non posso farci niente perché... Ah no, in realtà potrei mettere tipo qua. Sì, vedono lo stesso. Però... Eh, ora. Eh, quello sta dormendo. Ok. Scusate se il canna in baia. No, mi ha visto. No. Dai no. Zitto. No. 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 Potrei ammazzarlo. Zitto. Non hai visto niente. Sì, ce l'ho fatta. Ok. Bene. Eh. Che è? Madonna. Ha volato. Superman. Ok. Ora c'è lui. No. Non faccio il muro. Spiano. Benissimo. E anche te. Ciao. Eh no però. Eh, così no. Che brutto. Che uccisione è? Traverso il muro? Ok. No. Che è? Oddio. Ok, si è sbaggato. Madonna, che brutta roba che è successa. E buttiamolo qua dentro. Vabbè. Eh, oh. Sarà buggato. Amen. Due monete. Vabbè dai. Almeno due ne abbiamo presi. Ok. Ora rimane quello. Ma quello posso anche lasciarlo là. Allora io adesso posso passare. Guarda dove siamo. Sul punto dell'inizio. Posso andare. Da qua. E andare da sopra. Ah, ma io potevo passare dalla sopra. Sono pirla. Vabbè. Amen. Eh, ma sono pirla anch'io? Non mi era accorto dove c'erano quelli. Cioè, non lo pensavo neanche. Vabbè. Non c'è nessuno, vero? La fretta porta brutte cose. Ah, posso andare qua. Là ci sono delle persone ma non mi vedono. Oh, c'è una monetina. La prendo perché c'ho voglia. No. Oddio, la prendo. Prendila, 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 prendila. Eh no, prendila. La presa, la presa. No, mi vede, aiuto. Oddio. Non pensavo venissero di qua. Ma ora? Ah. C'è un passaggio qua? Eh, me ne vado qua io. Bene. No, mica appaio... Dove c'era... Dove c'è quello là? Dove sono? Ah, ma sono qua sotto. Ma dai. No, 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 non hai visto niente, non hai visto. Ah, no, non hai visto niente. Eh no, però io non volevo andasse così, cioè io volevo andare là sopra. Volevo solo prendere la monetina. Questi qua sono partiti a fare... I loro movimenti. E quindi? Questo è andato qua? Beh, oh, c'è una fiala di vita. Bella. Grazie. Allora, quello che lavora è qua, ma l'altro dove è scappato? Ok, dimmi che è tornato io qua. Oddio. Eh, non sapete dove sono però. Adesso? Come fate? Eh, non potete uccidermi qua. Ma chi mi ha visto? Io non l'ho visto. Dov'era? Bene. Salve. Potete andarvene? Bravi. Ma lui c'è andato io, no? Eh, infatti. Ah, ma era là. Eh, no, eh. È stronzo questo. Ma mi ero accorto io che fosse andato là. Ok. E qua? Non posso passare. Ah, posso passare di qua però. Platform, liscio. Vabbè. Vabbè, dai, andiamo di qua a questo punto. Il platform non l'ho preso. L'ho lisciato tutto il platform. Beh, sì, possiamo riuscire lo stesso. Guarda, continua a lavorare, continua a lavorare. Ti fa... Questo non sta dormendo. E sti... Non ne vi sento. Come è mazzo? Non c'è neanche i coltellini. Perché lo sai tipo quei due? Beh, fai bene a fare così invece. Perché adesso me ne esco. E ti faccio una sorpresina. Eccola qua. Ti è piaciuta la sorpresina? Bene. Ecco la sorpresina. Quindi questo me lo ammazzo qua. Questo qua. Perché lui non mi vede. Questa può sottolineare l'entra c'è di qua perché non viene più nessuno. Rola resta là adesso. Benissimo, ragazzi. Ok, sta andando bene per ora. Ok. Sta andando molto bene. Ma lui aveva qualcosa? No, non c'è niente da prendere. Peccato. Ok. Io lo chiudo tutto. Allora. Vabbè, questo non nascondo per svizio. Perché c'è un coso qua. C'è una cassa. Mettiamolo qua dentro. Ok, io posso andare qua sopra, tranquillamente. L'ambasciata è verso di qua, quindi ok. Ora posso andare. Là c'è un nemico. Qua ci sono degli aggrappi. Però io posso andare di qua, tranquillamente. Eh, allora vado di qua io. Hai ma di testa di nuovo. Eh, lo so, non riesce concentrati con il ma di testa. Qua c'è un po' di gente. Allora, questo col cappuccio, l'arciere di mezzo, la balestra. Questo ha un coltellino. Mi farebbe utile. E, ma chi è? Perché là sotto c'è uno? Ma sono passato da sotto io almeno. Eh, non lo so, però c'è uno. Io posso andarmene qua? Ma l'ho uccido questo? No. Ma ha visto? Resta là, resta là, resta là, resta là per piacere. Perché viene di qua? Ah, ok, no. Sta facendo il suo giro. Questo potrei ucciderlo. Però così mi vedono. Ok, non vedo più. Metto qua. Perché nascondiglio. Oddio. Ok, non mi sta venendo a cercare. Però questo è... Oh, invece sì. Te lo sarei immaginato, sì. Bravissimo. Bravo. Torna là. Torna su. Bravo, bravo, bravo. Lui si sta facendo il suo giletto. Questo lo posso uccidere. Ma se torna qua? Torna qua questo. Dai, dimmi. Sì, dai, che torna qua. Bravo. Ora ti fai a milà. No, non puoi fermarti là però a... A farti cazzi tua. Puoi tornare qua? No, eh. Bravo, sì. No, di qua. Ma... Di qua, di qua, di qua. Cosa sta facendo? Ma si è messo a martellare. Aspetta, ma sì, io vado di qua. Lui passa di qua. L'ammazzo. E niente. Bravo, è apposta. È apposta. Eh no. È tornato di qua. Ok, adesso ho il tempo. Lui torna là. Lui si gira. Ammazzo questo. Non c'è una cassa, quindi mi tocca nascondolo qua. Prendilo. Ah, prendilo. Eh, non nascondo qua, non nascondo qua che non mi vede. Bene. Devo andare verso di qua. Verso l'ambasciata. Ambasciata. Ci sono due diverse. Godbeard. Cos'è? Godbeard è più vicino, è qua sotto. Eh, quello là in fondo mi vede. Chi è? Aspettate la tua consegna. Ma chi sei? Ah, è lui. È quello che devo ammazzare. Per conto suo. Per conto di quella... Si è messo a vomitare qua, ma sei serio? Dove sta andando Godbeard? M'ha visto? No, non m'ha visto. Copri. Ok, io devo ammazzare Godbeard in un momento in mente. Non c'è nessuno, non c'è. Ok, se io devo ammazzarlo, mi sa lui. Sa proprio di sì. Ti mette con la vita anche te? Beh, è andata a finire male. Nascosto. Ok, ho finito un obiettivo secondario. Bene. Abbiamo ucciso quello che dovevamo uccidere per conto del nostro amico. Che ora non ricordo come si chiama. Ora, ci sono degli appigli qua. Ok. Qua? Non c'è nulla. Qua sì. No, scherzavo. Di qua sono. Sì, sono qua quelli. Sono anche questi, però. Io vado su questi. Ammazzo questo? Ok. Ammazzo questo. Ciao. Tieno il secondo qua. Non ti vedo nessuno. E mi arrampico qua. Ok. Bene. Sono qua sopra. Ok, qua c'è qualcos'altro. Allora, io adesso salto qua. E salto di qua. Benissimo. Vabbè, ora devo andare di qua. Ok, benissimo. Bene, ci siamo quasi. Là c'è l'ambasciata a 54 metri. Ma ambasciata e verso l'ambasciata. Ma sono due cose diverse. Un'ottima. Grappa di mamma mia. Ferra? La ferra? Non la ferra, quella? Sentite le navi. Ok. Bene. Siamo qua. Ci siamo quasi. Ok, allora. Là o là? Visto che siamo vicini. Andiamo verso l'ambasciata. Che è là. Ora. Eh, ma questo è brutto. Quanta gente c'è? Oddio. Posso ammazzarlo questo? Perfetto. Vabbè, uno in meno così facile. Mi piace questa cosa. Beh, direi di lasciarlo qua a questo punto perché se non lo vedo. No, no, così però. Ma io lo butto di sotto. No, ci sono dei coltelli arancio sotto. Eh, mi sarebbero utili. Ce n'è uno. A questo punto io andrei sotto. Quello mi vede. Là ce n'è un altro, ma io voglio solo il coltello. Beh, io... Chiudo con la torcia. Mi vede. No, non l'avevo niente. Ok, adesso quello arriva, ma cosa vuole? Fa giro di qua. Beh, sei morto, sarai di qua, lo sai vero? Bravo, bravo, vieni, vieni. Addio. Fa un culo. Ok, morti due su uno. Due in uno. Oddio, cosa stanno facendo? Eh, vabbè, non guardiamo i bug di sto gioco, purino che è del 2014. Sì, il coltellino è proprio quello che volevo. Bene. Beh, io posso stare a me ne su, non voglio stare a me ne su, non voglio stare a me ne troppo qua. Non c'è nient'altro che mi interessa. Bene. Mi deve andare qua adesso. E io sono a posto. Allora, eh... Bene. Eh. Guarda dove passo io. Allora. Ammazzo questo. Ammazzo questo. E poi ammazzo quello che arriva. Guarda se arriva di qua. Perché non mi ha dato l'opzione di ucciderlo? Gli altri non mi hanno sentito. Meglio così. Non so perché. Ma posso metterli qua? Bella sedi qua. No. Non mi hanno sentito. Vabbè. Ok. Me li usi. Un pericolo in meno perché era abbastanza difficile ammazzarli tutti. Ah, posso passare qua sotto? Vabbè, non mi interessa. Posso andare ovviamente qua. Chiudo la torcia. Così. Che non hai visto niente? No, 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 no. Ok. Il problema è che se adesso io attiro l'attivazione qua e sono morto. Indietro, torna indietro, non anda qua. Ok. Benissimo. Non mi ha salvato niente. Beh, no, ma mi avrà salvato la missione secondaria che ho fatto. A sto punto provo ad andare qua. Vado da qua. Vado, passo qua. Esco di qua. C'è lui. Che non mi vede ora. Perché io salgo qua. Però ora sì che mi vede. Perché ripassa di qua. Allora, o lo ammazzo semplicemente perché passa qua. Bene, vieni, 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 vieni. Vieni, ciao. Perfetto. E anche lui se n'è andato. Non mi vedono qua. Oh. Eh. Così è molto meglio. Oh, oh, questo. Chi è questo? No. Eh, lui mi vede però. Ah, si mette a dormire. Aspetta. Benissimo. Stiamo andando molto meglio di prima. Perché prima non ci avevamo messo così poco. Sono andato a complicarmi la vita io. Nascondiamolo dentro la cassa. Benissimo. Allora, andiamo su. Qua c'è questo. Io mi afferro qua. Vado qua. Qua. Oh, oh, oh. Ok. Eh, loro. Che faccio? Ma continuo. Oh, se ne va? Ok, vediamo cosa fanno. Ah, se ne sta andando via. Ok, ok, ok. Andate, andate, andate sopra. Io andate a mazzo il vostro caro amico che l'ha. Vi farò trovare una bella supersina. Bene. Potrei salire. A posto. Scusate a mazzo. Ciao. Benissimo. Ah, posso volerciare l'armadio. Bene. Ok. Benissimo. 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 Ci sono monete, robe? No? Non c'è niente. Ok, non ci sono monete. Allora. Mettiamo un attimo la vista. Nascondiglio, nascondiglio, niente. Basta. Andiamo andando qua sopra. Ora ci sono ancora loro due. Ok, sono là. Ok. Ce l'ho già abbastanza, mi dice. Bene. Dica cosa c'è. Ci sono loro due. Non sono neanche nascondiglio. Ah, mi sono incastrato in un posto brutto. Lui viene di qua. Dovrei riuscire a ucciderlo. bravo avvicinati ancora dai 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 non riesco ma ha visto palle anche perchè vedi devi fare tre parate e non fai in tempo eh no vedi madonna è difficile no 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 non vale così madonna aspetta sono tutti dietro qua ah corro aspetta fermi la dai no sono tornati sto mozzi a a a in oddio no vabbè ci ho fatta non ci credo non ci credo non ci sto credendo adesso che ho attivato niente ma di ottenimento bello si va faccia qua qua ok oddio sono arrivato aspetta c'è ancora lui che non l'ho ammazzato ok ce l'ho fatta scassiniamo sta porta il bacio 45 minuti siamo messi per fare una missione così però anche perché sono morto lasciamo sta zona ce l'abbiamo fatta bene scusate se come al solito non ho parlato tanto ma quello che posso fare in questo gameplay è solo commentare quello che succede devo un po abituarmi a parlare un po di più direi che possiamo fermarci qua ragazzi io concludo qua il video spero vi sia piaciuto ditemi anche a voi se vi è piaciuto ok sono morto quante quattro volte lo so è che sono abbastanza nabbo in questi giochi a volte a volte insomma abbastanza nabbo come vedete non sono proprio il massimo però insomma spero di imparare abbastanza presto un po le le cose abbiamo fatto anche una missione secondaria per uccidere quello che ci aveva detto di uccidere il nostro amico e noi abbiamo fatto beh tutto sommato il contenuto in questo video c'è abbiamo fatto un bel po di cose e io sono stato contento spero che vi sia piaciuto anche a voi io come sempre vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo ad un prossimo video ragazzi ciao a tutti